E sempre dal Muevete qui di Faenza ho rapito un altro personaggio, un altro grande dei quattro, i quattro organizzatori di questo grande evento di questa Due Giorni di Latinoamericano. Silvia Baldini qui con noi, ciao! Ciao! Uno dei fantastici quattro. Allora, Silvia che è una ballerina in erba, dai, balli, balla, lei dice di no ma invece balla e balla molto bene. Com'è passare da essere una semplice ballerina partecipante ai corsi ad essere un'organizzatrice e neanche di un piccolo evento, di un evento così importante? È emozionante direi, è stato, è nato tutto un po' per gioco, mi sono trovata a cena con Mickey Roby e Cioco e mi sono trovata coinvolta in questa organizzazione senza neanche saperlo. Mi hanno preso un po' così a tradimento perché sono, diciamo, la parte organizzativa che sta dietro a tutto. Quindi controllo dei costi, organizzazione, gioco a Tetris con tutto quanto, diciamo, da quattro mesi. Che poi è la parte più affaticante ma anche divertente perché poi si entra a contatto con tutti questi grandi artisti perché ne avete mossi tanti. E ogni artista, giustamente, ha le sue esigenze per cui ti sei trovata davvero a completare un puzzle. Sì, sì, assolutamente. Io lo chiamo Tetris più che puzzle perché è continuamente in movimento però, sì, devi accontentare le richieste, le disponibilità. Difficile però è una grande sfida. È una grande sfida ovviamente siccome lei ha gestito tutto, le chiedo. Abbiamo parlato non soltanto di latino ma anche di bughi. Quindi qui, in questi due giorni, a che cosa si assiste? Quali sono le discipline di questi stage? Allora abbiamo tutto il filone della salsa, salsa portoricana, cubana, con tutte le sfumature, sia come maestri, sia come show e sia come serata stasera a livello di DJ. Quindi abbiamo un pacchetto completo sul mondo della salsa. Domani avremo anche una grandissima conferenza con Enzo Conte, quindi proprio sulla cultura della salsa. E poi abbiamo tutto il mondo baciata e chizomba. Abbiamo con noi campioni nazionali a fare stage e spettacoli, chizomba, tutto quanto. E poi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso perché nella nostra zona, qui in Romagna, è molto presente anche il bughi. Ma non ci sono degli eventi, ci sono molte persone interessate, ci sono degli ottimi maestri che molto spesso devono andare a insegnare a Senigallia. E allora cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo dato uno spazio in questo festival. Serata, sala, stage, spettacoli. E devo dire che ha avuto un discreto riscontro perché mi diceva appunto Roby prima che c'è stata una grande affluenza. Io lascio andare Silvia perché è qua che sta muovendo i piedi perché deve andare di nuovo al suo desk che la stanno attendendo. Silvia grazie per averci dedicato due secondi del tuo tempo. Ciao a tutti. Grazie.